In solito orario delle 12.30 per il match del Pescara, domani ultima di andata allo Stadio Adriatico contro il Picerno che arriva da sette risultati utili consecutivi. Il tecnico Alberto Colombo ha parlato poco fa in conferenza stampa con l'eccezione di Pellacani, Plizzari e Palmiero, tutti a disposizione, superati gli acciacchi di Aloy, Delle Monache e Crecco. Il tecnico in conferenza ha fatto intendere che potrebbe confermare la stessa formazione che ha vinto a Monopoli, chiaramente con sommariva tra i pali al posto di Plizzari, anche se Craia, Tupte e Delle Monache scalpitano ma partiranno dalla panchina. Il tecnico Colombo ha anche parlato del prossimo avversario di domani ma ci andiamo ad ascoltare con le immagini di Diego Martelli i passaggi chiave della conferenza stampa. Come è andata la settimana, come sta la squadra in vista della partita di domani e se ci sono possibilità concrete che a parte Plizzari, quindi sommariva, venga confermato lo stesso Undici che ha vinto a Monopoli. Allora, sì, ci sono stati dei piccoli acciacchi che a turno hanno colpito qualche giocatore ma a oggi possiamo dire tutti a disposizione, questo è importante. Chiaramente Palmiero e Pellacani sono i lungodegenti, diciamo, di date passate non saranno a disposizione e si è unito, come sappiamo, tutti i plizzari, poi tutti per la partita di domani con il Picerno. È stata una settimana discreta, sicuramente non abbiamo notato delle negatività, c'è voglia di concludere bene il girone d'andata, sarebbe importante scavallare la quota dei 40 punti, credo che sia, stavamo confrontando, insomma, guardando le classifiche dello scorso anno, sarebbe veramente un ottimo risultato, un buon viatico per il girone di ritorno, ma sappiamo che non è scontato, non è facile, perché di fronte abbiamo una squadra, il Picerno, che sta attraversando un ottimo momento di forma e di risultati, perché devo dire che già dall'inizio stagione le prestazioni erano incoraggianti per quanto riguarda la loro espressione di gioco, magari non supportate dal risultato. Sì, c'è buona possibilità di rivedere la formazione schierata a Monopoli, però abbiamo ancora l'intera giornata, perché comunque anche altri si sono allenati in modo da potermi mettere qualche dubbio, perché Craia comunque ha fatto una buona settimana, ma lo stesso Tupta, credo che delle monache che ha ripreso dall'acciacco che ha smaltito in questa settimana, quindi le alternative, le soluzioni diverse a quelle di Monopoli ci sono. È chiaro che si può anche pensare di dare continuità, è forse la strada che sceglieremo, però insidiate da questi altri tipi di considerazione, perché c'è chi scalpita alle spalle di chi è sceso in campo a Monopoli. Facundo Lescano, perché comunque è un attaccante che per due mesi e mezzo, tre, ha regalato grandi gioie, otto gol, sei assist, a volte lei lo definiva il numero dieci in campo, il regista offensivo, sta tornando ad essere quell'Escano in allenamento e quanto conta Colombo su Facundo Lescano nel girone di ritorno di cui stava parlando? Grazie. È un giocatore che si è rivelato importante all'inizio e oggi io noto un calo, ho notato un calo e di conseguenza, come ho sempre ribadito, il pensiero primario va alla squadra, questo non significa abbandonare nessun tipo di giocatore, nessun ragazzo per strada, ma deve essere chiaramente anche lo stesso giocatore a dare delle risposte, a voler dare delle risposte, dei segnali di presenza, quindi di voler essere ancora un punto importante, perché appunto noi lo riteniamo un giocatore estremamente importante. Poi, se il calo di rendimento mi fa preferire altri in questo momento, credo che sia inevitabile, perché noi stiamo disquisendo o parlando in questi ultimi periodi di Lescano, proprio perché è stato incisivo nei numeri, in quello che ha fatto ed è stato determinante. Oggi lo è un po' meno per una flessione fisica, dovuto anche a sicuramente un aspetto dell'infortunio, chiamiamolo così, non è infortunio, è un termine sbagliato, diciamo che ha avuto dei problemi che lo hanno limitato, oggi credo che sia pienamente recuperato, ma deve poi dare dei segnali di volontà di reazione. E quindi, in questo momento, ci sono altri che ritengo che possano dare di più, possono dare ancora più sotto il profilo dell'apporto in tutti i sensi, in tutte le fasi, e quindi gli vengono preferiti altri giocatori. Ma questo non significa che Lescano non venga più tenuto in considerazione, da parte mia o da parte della società. Questo è fuori discussione. Chiaramente poi, se noi andiamo, ripeto, sono i numeri e quello che ha fatto Lescano, perché altrimenti ogni giocatore che non scende in campo potrebbe essere un caso. Quindi lui lo è proprio perché, o viene definito così, per quanto ha dato nella prima parte di stagione. Il Picerno ha un gruppo consolidato, quindi è un gruppo che lavora dall'anno scorso, secondo me qualcuno anche dall'anno della vittoria del campionato in Serie D. Ha dei giocatori esperti che riescono a trascinare il gruppo e anche a far giocare in modo bello da vedere la squadra. Ha un'organizzazione importante. Già l'anno scorso io li ho incontrati anche nei play-off e ci hanno dato filo da torcere, perché è una squadra che attorno a un nucleo storico poi fa giocare gli under. e riescono sempre a trovare delle annate dove passano per rivelazione, ma ormai rivelazione per me non lo sono più, perché cambiando gli allenatori, ma avendo un gruppo consolidato, portando sempre qualcosa di diverso ogni allenatore a questa squadra, riescono sempre a fare un grandissimo campionato. E oggi è l'evidenza di come siano in Serie Utile da sette partite, cinque vittorie e due pareggi, ma l'espressione di gioco è di una squadra che sa alternare momenti di dominio, ma sa anche difendere e ripartire, proprio perché ha diverse qualità in organico. Credo che tutto giri intorno ad alcuni giocatori. Dettori può essere un simbolo, ma altri, per esempio i difensori centrali danno fisicità e problematiche agli avversari anche sulle palle inattive. E poi ci sono giocatori che, Golfo, ma sugli esterni, Esposito, io non so se ci sarà o meno, lo stesso Reginaldo, Gerardi che sembrava infortunato o sembra infortunato, sono giocatori che sanno giocare a calcio, quindi è una squadra da non sottovalutare perché può insidiare tutti ed è la dimostrazione come sia viva nell'ultimo periodo. Quindi da prendere veramente con le pinze, con grande rispetto, è una squadra che secondo me non verrà a fare barricate perché non è nelle proprie intenzioni, ma cercherà di voler fare gioco. Quindi anche su questo aspetto dobbiamo dare il giusto rispetto sapendo che anche noi abbiamo le caratteristiche per mettere in difficoltà il Picerno, ma non solo il Picerno.